Assessore, da due mesi si è insediato l'osservatorio regionale sulla sicurezza stradale. A questo punto non è un caso, o meglio è un caso, ma è abbastanza importante che proprio in quei giorni è stata approvata anche la legge sull'omicidio stradale. Una casualità che viaggia insieme al vostro lavoro. Sì, l'osservatorio regionale per la sicurezza stradale ha il compito di supportare la Giunta e il Consiglio dando indicazioni e coadiuvando per quanto riguarda le politiche e le scelte attinenti alla sicurezza stradale. Noi purtroppo assistiamo ad un fenomeno che vede centinaia di migliaia di morti in Europa e nel 2014 240 solo in Toscana per quanto riguarda gli incidenti stradali. A questi si aggiungono molti feriti che rappresentano oltre a fatti luttuosi per le famiglie anche un costo sociale molto rilevante. Quindi il compito nostro è quello di cercare di fare tutto il possibile affinché gli incidenti stradali possano diminuire. Ovviamente occorre intervenire sulla qualità delle infrastrutture, occorre però intervenire anche sul versante culturale per quanto riguarda la promozione del rispetto delle regole e occorre intervenire anche sugli stili di vita perché è fondamentale che chi si metta alla guida di un mezzo non abbia assunto sostanze alcoliche o stupefacenti. L'approvazione della legge 41 relativa all'omicidio stradale è direi una conquista di civiltà perché va a riequilibrare un quadro normativo che vedeva meno tutelate le vittime di un incidente stradale che non chi aveva compiuto il fatto. L'osservatorio si è dato l'obiettivo anche di far conoscere quali sono i contenuti di questa legge che sono contenuti molto pesanti per quanto riguarda chi provoca un omicidio stradale o chi comunque tiene comportamenti scorretti che possono agevolare magari l'incidente stradale stesso. Abbiamo visto proprio nei giorni scorsi a Firenze in Viale Matteotti dove c'è stato un incidente con una signora che è morta e altri feriti che ha visto però essere oggetto di un avviso di garanzia anche che aveva lasciato in quell'incrocio una macchina indiviata di sosta che forse può aver agevolato questo fatto. Si tratta di un provvedimento cautelare però questo rende ben evidente quale sia il cambio di normativa e delle sanzioni che questa nuova legge 41 contiene. Ovviamente a noi interessa far conoscere questa legge perché possa funzionare da prevenzione, possa funzionare da deterrente rispetto al tenere comportamenti scorretti quando si viaggia in auto o in moto nelle strade perché occorre tenere attenzione, perché occorre rispettare le regole ad iniziare da limiti di velocità. Ora ci sono queste sanzioni così pesanti è bene che si conoscono perché questo deve ulteriormente indurre a tenere comportamenti corretti perché dobbiamo in questo modo cercare di ridurre possibilmente di eliminare tanti morti e tanti feriti e questo credo sia veramente un atteggiamento, un ruolo di civiltà prima ancora che un comportamento importante dal punto di vista delle istituzioni e di tutti i soggetti che si adopereranno in questo senso. Ha parlato di divulgazione da parte della Regione per far conoscere questa legge. Già sappiamo che anche in anni passati le varie amministrazioni hanno promosso campagne, lo stesso Governo contro la guida pericolosa da parte della Regione e che tipo di divulgazione ci sarà nei prossimi mesi? Sì, da parte dell'osservatorio fra l'altro sono non soltanto le istituzioni e la Regione stessa con i suoi settori interessati ma fanno parte dell'osservatorio i rappresentanti delle forze dell'ordine, fanno parte dell'osservatorio i rappresentanti delle associazioni che sono nate in memoria delle vittime della strada. Quindi il nostro obiettivo e il nostro ruolo è quello appunto in questo caso rispetto a legge 41 di far promuovere in Toscana più iniziative possibili per far conoscere questa legge per far conoscere quali sono le pesanti sanzioni che essa prevede perché prevede dall'arresto prevede al carcere prevede la sospensione della patente per svariati anni quindi tutto questo deve ulteriormente indurre a comportamenti corretti e rispettosi delle regole quindi con più in Toscana riusciremo ad organizzare iniziative a farle conoscere e con più siamo convinti di fare prevenzione rispetto agli incidenti stradali. Ovviamente a questo deve continuare l'impegno per il miglioramento delle infrastrutture deve continuare l'impegno per una cultura del rispetto delle regole e noi ci rivolgiamo ovviamente a tutta la popolazione ad iniziare dagli addetti a lavori come quelli partecipanti a questo convegno poi è importante lavorare anche nelle scuole con i bambini con gli studenti perché è da lì che deve come dire sorgere veramente il sentimento del rispetto delle regole perché questa è la cosa più importante perché se non si inizia dalla scuola che è diciamo il momento di maggiore permeabilità magari è più difficile farlo più avanti però noi ci rivolgiamo ad amperaggio a tutti quelli che ci vorranno ascoltare per raggiungere un obiettivo che ritengo sia un obiettivo importante di civiltà.